Un cordiale benvenuto a tutti i nostri telespettatori per questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo parlando con una drammatica notizia di cronaca. Battista Ballardini, di 76 anni, è morto ieri sera a seguito di un incidente avvenuto in superstrada. Tra le possibili cause dell'uscita di strada, un malore. Drammatico incidente ieri sera alle 22 in superstrada, all'altezza dello svincolo di Cerretto Castello, in direzione Masserano. Battista Ballardini, di 76 anni, ha perso la vita uscendo di strada. L'uomo si trovava solo alla guida della sua Mercedes classe A, quando chi lo seguiva ha visto l'auto sbandare e uscire dalla carreggiata. Immediatamente sono stati chiamati soccorsi e sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Candelo, Bielle e Mongrando, che si sono visti costretti a chiudere il tratto di strada per permettere ai vigili del fuoco di estrarre l'uomo, ormai senza vita, dalle lamiere dell'auto. Inutile qualsiasi tentativo di rianimazione. Infatti la vittima dell'incidente all'arrivo dei soccorsi era già deceduta. Ancora sconosciute le vere ragioni dell'incidente e della morte. Molto probabilmente un malore improvviso è stato fatale al 76enne. Anche se solo l'autopsia potrà chiarire se le cause del decesso sono avvenute a seguito del trauma causato dall'incidente o se provocato da cause naturali. E parliamo ora di sanità. Il 118 a Cavaglia è salvo. D'annunciarlo il primo cittadino di Biella, Dino Gentile, a seguito di un incontro con i sindaci del territorio e di vertici dell'Astra di Biella. Mattia Ferrero. Il servizio del 118 a Cavaglia non verrà toccato. Questo è quanto emerso da un incontro tra il sindaco di Biella, Dino Gentile, i sindaci del territorio e l'Astra di Biella. Oltre al sindaco di Biella erano presenti i sindaci di Cossato, Andorno Michi e Cavaglia. Per l'Astra di Biella era presente il direttore generale Gianfranco Zulian, accompagnato dai direttori del servizio amministrativo e sanitario, oltre ai responsabili del servizio di emergenza del 118. Il rischio di perdere il servizio 118 presente nel comune di Cavaglia è stato sventato, commentato il primo cittadino. Rimarrà pertanto uno dei quattro presidi 118 del biellese, Biella, Cossato, Trivero e Cavaglia. A Cavaglia continuerà dunque il servizio 118 con ambulanze e personale altamente specializzato nell'emergenza. La notizia giunge dopo che la regione Piemonte ha approvato nei giorni scorsi la riforma sanitaria. Per quanto riguarda il nostro quadrante, l'ospedale di Biella viene individuato come cardine, esattamente come quello di Vercelli, mentre viene classificato come ospedale territoriale, quello di Borgosesia. E parliamo di ambiente con la polemica sull'ipotesi di realizzare un inceneritore a Vercelli per lo smaltimento dei rifiuti del Piemonte orientale. Il centro-sinistra parte all'attacco. E' scontro aperto sul futuro dei rifiuti del Piemonte orientale e quindi anche del biellese. Nei giorni scorsi era trappelata la notizia secondo cui le amministrazioni provinciali di Vercelli, Biella, Nomare e Vercelli-Cusi-Ossola avrebbero trovato un accordo per la realizzazione di un nuovo inceneritore a Vercelli, presso il quale bruciare le 150.000 tonnellate di rifiuti delle quattro province. Il centro-sinistra è partito subito all'attacco. Siamo contrari all'ipotesi di realizzazione di un nuovo inceneritore, sia perché esistono alternative il cui impatto ambientale sarebbe decisamente minore, sia perché, dati alla mano, il nostro quadrante non ha bisogno di un impianto di questo tipo. Per questo, spiega una nota congiunta delle segreterie provinciali del Piemonte orientale, avevamo rivolto alle istituzioni interessate l'invito a costituire un tavolo di confronto per affrontare in modo partecipato il tema della gestione del ciclo di rifiuti. Ed ecco che, a sorpresa, invece del confronto ci troviamo di fronte a una decisione che contrasta sia col buonsenso, sia con le necessarie attenzioni per la salute dei cittadini. E' nostra intenzione, chi osano i democratici, intraprendere ogni azione che possa rimettere in discussione questo progetto. Intanto chiediamo subito una convocazione straordinaria dei consigli provinciali per capire chi, come, come, quando, sono state prese decisioni così importanti senza nessuna discussione. Una nota giunge anche da Roberto Pietrobon, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, alcune di Biella, di relazionare nella prima seduta utile del Consiglio Cumulale in merito al suddetto protocollo e l'ipotesi in campo. A buttare acqua sul fuoco ci pensa Fausto Governato, assessore all'ambiente della provincia di Biella. Sulla questione non vi è nulla di definitivo. L'ipotesi dell'incineratore Vercelli è solo una delettante vie ipotizzabili per lo smaltimento dei rifiuti in futuro. E torniamo a Biella città. Gli orti urbani rischiano di ritornare al bosco. L'opposizione chiede al sindaco di riproporre l'uso degli orti alle famiglie. Come emerge dalle fotografie che state vedendo in questo istante, sono sempre di più le segnalazioni relative allo stato di abbandono in cui versano gli orti urbani di Regione Croce e Biella, dovuto alla mancata assegnazione di numerosi lotti tutto rincolti. Due terzi, infatti, dell'intera area rischia di ritornare bosco. L'obiettivo del piano di riqualificazione urbana, che ha riguardato l'intero comparto ai piedi della collina di Chiavazza, vedeva proprio nella frequentazione degli orti una forma di presidio contro il degrado. Sulla questione giunge un'interrogazione da parte dei consiglieri del Partito Democratico a Palazzo Europa, i quali spiegano che nonostante siano trascorsi alcuni mesi dall'impegno assunto in pubblico dall'amministrazione comunale, prendendo atto che fino ad oggi di fatto nulla è stato realizzato, i democratici chiedono proprio al sindaco Dino Gentile quali siano i motivi del ritardo nelle assiniazioni dei numerosi lotti incolti se vi siano poi richiesti in evase da parte di persone e come intendono riproporre l'utilizzo degli orti alle famiglie residenti in Regione Croce, con uno specifico avviso pubblico. E parliamo di territorio. Anche per quest'anno, Valle Mosso organizza il centro estivo per i bambini della scuola dell'infanzia. L'associazione Passaggio Oriente di Valle Mosso organizza il servizio di scuola materna estiva nel mese di luglio per quattro settimane, dal lunedì 4 venerdì 29 luglio, per i comuni di Valle Mosso, Mosso e Veglio. Sono previsti giochi, gita, attività espressive e tanto divertimento. Quest'anno il servizio si terrà nei locali della scuola dell'infanzia di Valle Mosso e sarà gestito da insegnanti e personale qualificato. La scuola materna estiva è rivolta a bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, cioè quelli che hanno frequentato la scuola dell'infanzia e funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.45. Per i bambini partecipanti sono previste numerose divertenti attività in sede e nell'area verde esterna. Inoltre sanno organizzate alcune gite ed escursioni con visita a parchi naturali a strutture attrezzate, con intere giornate trascorse all'aria aperta e in piscina. Il costo di iscrizione per l'intero periodo della scuola materna estiva è di 160 euro. Sono inoltre previsti costi differenziati per chi si iscriverà per periodi più limitati. La domanda di iscrizione va consegnata in biblioteca all'ufficio istruzione del comune di Valle Mosso entro mercoledì 27 giugno con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione. Sono previste anche alcune agevolazioni valide solo per i sedenti a mosso, Valle Mosso e Veglio, in particolare per chi ha già un altro figlio partecipante al centro estivo o alla scuola materna estiva è un ISEE inferiore a 22.000 euro. La quota di iscrizione è ridotta del 70. Per iscrizione e informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale o all'ufficio istruzione nel municipio di Valle Mosso. E apriamo la pagina della cultura. Dal 14 al 17 giugno prenderà il Via Biella una quattro giorni di eventi diffusi sul territorio cittadino. Protagonisti saranno mostre, performance e concerti, uniti dal filo conduttore dell'arte contemporanea. Un evento interamente dedicato all'arte contemporanea, una quattro giorni di eventi diffusi sul territorio cittadino. Questa è l'idea di progetto BIC, Biella in Contemporanea, evento promosso dall'assessorato cultura della città di Biella a cura di B-Box Art Space di Biella. Attraverso la collaborazione delle diverse gallerie cittadine, di città dell'arte, fondazione Pistoletto, del liceo classico, artistico, sella e di diversi operatori culturali, BIC porterà in città una serie di mostre, esposizioni, laboratori, incontri culturali e concerti con nomi di livello nazionale come Luca Beatrice e Angela Vettese. Il Museo del territorio biellese, centro culturale cittadino, ospiterà la mostra Dialoghi, dove alcuni artisti contemporanei dialogheranno appunto con le opere delle collezioni permanenti del museo e i 16 cubi in movimento, progetto di città dell'arte e fondazione Pistoletto, oggetto anche di due laboratori per bambini. Le gallerie private ospiteranno mostre, performance e concerti uniti dal filo conduttore di BIC, ovvero l'arte contemporanea, in tutte le sue declinazioni. Diverse le sedi cittadini coinvolte, oltre agli spazi privati, tra cui Villa Schneider, che ospiterà i lavori dei giovani studenti del liceo classico-artistico. Punto fondamentale per la creazione di un cartelone completo e ricco è stato il rapporto di stretta collaborazione tra l'ente pubblico, l'assessorato della cultura e le diverse realtà private cittadine, che, attraverso il coordinamento di BBOX, Art Space e supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, hanno lavorato sinergicamente per offrire al territorio un importante evento culturale. Per la terza volta, il coro Montemuncolone della Pietromicca, stasera alle ore 21 al Teatro Sociale, ospita un coro giapponese. Si tratta del complesso vocale di Narita, città in cui è situato l'aeroporto di Tokyo. Lo compongono gli impiegati della Compagnia Aerea di Bandiera, uniti dalla Passione per la Musica. Il programma prevede all'inizio sei brani cantati dal nostro coro, guidati dal direttore Pietro Tartarini e guida Bertone. Farà quindi eco quello nipponico, con le canzoni e inni della tradizione orientale, per terminare con un'esibizione a coro uniti, con pezzi famosi, tra cui quello tratto dal Nabucco di Verdi. L'ingresso è libero. E vediamo cosa ci propone Fabio Castellaro per il classico appuntamento con la musica della domenica sera alle ore 21. Domani sera, telebiella ci condurrà a curiosare su quanto è stato proposto al Festival di Lucerna la scorsa estate. Il programma prevede nella prima parte tre brani. Inizia con l'ouverture dell'opera di Wagner Rienzi, cui seguono le danze dall'opera Salomé di Richard Strauss, per concludersi con la sinfonia numero 7 di Shostakovich, comunemente nota come Leningrado dalla città dove fu composta. Ce li presenta l'orchestra del Concertgeboum di Amsterdam, diretta da Andris Nelsons. Questo, infatti, ha rivelato particolari attitudini di concertatore, su lavori soprattutto di Wagner e di Richard Strauss. Figlio d'arte, essendo nato da genitori entrambi musicisti nella capitale lettone di Riga, è attualmente direttore dell'orchestra della città inglese di Birmingham, dove nel 2007 ha sostituito Sir Simon Rattle, passato a dirigere la grande Berliner Philharmoniker. Nella seconda parte daremo spazio per la prima volta all'arpa, con brani di Obradovich, Vipoli, Sensans, Von Paradis e Asselmans, eseguiti dalla bravissima Caterina Bendova, artista di origine russa. A presto di Obradovich, Vipoli, Sensans, Vipoli, Sensans, e se ne sarebbe spazio per la r Iof in Regio di vib scripture diند provincia, ci siamo in un buon TIME pittorio per con Очень Lord Rigtout, Obradovich, владiv. Obradovich, ha fatto un buon tempo multi di ambito leader, diciamo se non ci s tuh di di noi, le sport e i bisogni d Furush. la bIElla rugby diventeranno donatori abisma, L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi in conferenza stampa e la notizia arriva proprio all'inizio della stagione estiva, tipicamente difficile per quello che riguarda le donazioni di sangue. Lorenzo Tivelli Lo sport si fa dono, questo è il titolo della collaborazione tra Biella Rugby, Avis e Centro Trasfusionale di Biella presentata nei giorni scorsi in conferenza stampa. La locale squadra di rugby ha iniziato ormai da qualche mese una collaborazione con il coordinamento Avis Giovani che è poi evoluta nel progetto di donazione di squadra. Dalla prossima settimana i ragazzi potranno recarsi in gruppi presso l'ospedale dove saranno effettuati gli esami preliminari. Una volta constatata l'idoneità dei giocatori diventeranno a tutti gli effetti volontari donatori. Un progetto reso possibile anche da tutto lo staff del centro trasfusionale diretto dal primario Gennaro Mascaro che esprime la sua soddisfazione in quanto queste nuove assunzioni arrivano in un momento delicato per la richiesta di sangue. L'estate è infatti una stagione molto critica dove sovente le scorte scarseggiano e i donatori molto spesso sono lontani per il periodo delle ferie. Condivide in pieno lo spirito dell'iniziativa e approva anche il coach del Biella Rugby, Callum McLean, che si è reso subito disponibile e ha motivato i ragazzi della squadra che hanno risposto in massa. E allora anche questo sarà un buon motivo per festeggiare sia in casa Avis sia in casa Biella Rugby. Presso i campi di via salvo d'acquisto sarà un weekend di festa e allegria con una tre giorni che promette sorprese. Si inizia venerdì 8 giugno con la premiazione delle vecchie guardie e poi sabato dalle ore 16 e 30 tornei, grigliate, concerti e divertimento fino all'alba per concludere domenica con il brunch e le partite di chiusura della festa. L'Avis invece presso l'hotel Agorà premierà sabato sera dalle ore 17 più di mille donatori che hanno ricevuto le benemerenze e poi tutti a cena per festeggiare nel nome della solidarietà. E come sempre in conclusione le notizie meteo e cielo regolarmente nuvoloso con sprazzi di cielo sereno. In serata possibili rovesci temporali, temperature stazionari o leggeri diminuzioni. Per notizie ed approfondimenti consultare la pagina Facebook Meteo Biella. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi e auguro tutti buon proseguimento.